bentornati divine divine sul mio canale oggi ci occupiamo della lettura della settimana dal 10 al 16 di luglio faccio qualcosa già che si sta girando per qualsiasi consulenza personalizzata potete trovare i miei riferimenti nella descrizione di questo video allora andiamo subito a vedere che cosa sta accadendo per quanto riguarda il maschile il femminile io mi riferisco molto spesso alle fiamme ma queste stese non sono solo per le fiamme ovviamente io faccio un pochettino più diciamo riferimento alle fiamme perché sono io stessa fiamma ma se sentite risuonare chiaramente e non siete fiamme è anche valido per voi allora io intanto vi dico qua le energie sono potentissime abbiamo energia maschile energia femminile non per separare ma per individuare quindi mi raccomando non vuol dire che il maschile si comporterà in questo modo al di fuori dell'energia io sto parlando delle fiamme ovviamente al di fuori delle energie che stanno mettendo in campo il femminile se siete in un altro tipo di relazione ovviamente diciamo che il cordone tra le due persone è diciamo è diverso c'è sempre comunque l'energia che li lega altri tipi di frequenze di energia quindi non sarà propriamente però diciamo per tutti quando io parlo di fiamme però diciamo che gli angeli ci vogliono parlare di qualcosa che può risuonare appunto in tutte le tipologie di relazioni quindi se siete un'anima gemella siete in una relazione karmica vi sembra di cioè vi sembra sentite risuonare queste queste questa stesa va benissimo nella vostra vibrazione la nostra frequenza le parole che io dico saranno anche rivolte a voi questo è la magia degli angeli ovviamente che parla al nostro cuore e alla nostra diciamo alla nostra mente ma la nostra mente se è servita al cuore chiaramente ne comprende completamente la potenzialità se invece siamo ancora nella mente potremmo ancora rifiutare poter dire ah sì certo vabbè ok oppure sai tanto tempo che diciamo se cose però se allora tutto dipende da noi se siete in una situazione di sofferenza separazione non date colpa a nessuno non è colpa di nessuno è semplicemente il vostro cammino dipende dall'energia che avete dentro questo non mi stancherò mai di dirlo e allora andiamo a vedere che cosa sta accadendo per le fiamme ma anche per tutte le altre relazioni vediamo se gli angeli ci danno delle indicazioni chiaramente non sarà anche qui per tutte le fiamme perché qua gli angeli ci stanno mandando delle informazioni che secondo loro sono importanti relativamente a un gruppo di persone quindi anche se siete fiamme non vuol dire che per tutte le fiamme vada bene questa stesa ascoltatela con molta consapevolezza e non diciamo con il voglio che sia ma semplicemente è se lo sentite risuonare perché vibrazionalmente corrisponde a voi se invece è solo la mente dice sì ok ci uniamo ma siete ancora diciamo tanto nei problemi nel karma nel disequilibrio nelle sbalzi emotivi in quelle che possono essere il controllo il dolore ecco tutte queste cose chiaramente l'unione non ci può essere perché appunto ancora non è stata creata dentro l'unione avviene prima dentro e poi nella coppia prima individualmente per questo che il cammino di fiamme è un cammino individuale all'inizio per questo che ci sono tante separazioni perché ovviamente l'unione interiore e lo scioglimento del karma deve avvenire a livello di individuale quando entrambi avrete sciolto la maggior parte delle situazioni karmiche dei problemi e avete trovato un equilibrio interiore allora ci potrà essere l'unione fisica come ricordo ovviamente anche questo non deve essere motivo di stress siamo vicini alla un'ondata agli unioni e questo avverrà appunto se non è già avvenuto avverrà tra luglio e agosto è quindi non state lì a pensare chissà se ci sono se non ci sono sono io non sono io se poi lui non lo fa e se io non ci sono insomma tutte queste cose qui vuol dire che non ci siete perché vuol dire che siete ancora nella mente chi è vicino all'unione lo sente dentro e non ha bisogno di nessuna come dire rassicurazione esterna lo sapete punto ok perfetto allora gli angeli in questo momento ci vogliono parlare di un determinato gruppo di persone quindi come vi ripeto non sarà valida per tutte chiaramente questa stesa ma evidentemente gli angeli hanno voglia hanno voglia gli abbiamo chiesto noi perché loro hanno sempre voglia di aiutarci però siamo noi che glielo dobbiamo permettere ma chiedendogli il loro consenso e la loro presenza ovviamente sono felici di darcela per cui in questo momento vogliono riferirsi soprattutto a un determinato un determinato gruppo di persone quindi evidentemente in questo momento è importante che chi sente risuonare dentro questa situazione si sente risuonare dentro questa stesa ovviamente il messaggio è specificatamente per loro perché evidentemente è importante in questa settimana in questo momento in questo momento di potenziamento a livello vibrazionale di innalzamento vibrazionale e di crescita animica evidentemente è importantissimo che quelli che sentono risuonare questa stesa ascoltino questo messaggio è un messaggio che sento particolarmente importante rivolto a un determinato diciamo gruppo di persone vediamo provate a essere diciamo molto consapevoli per capire se è rivolto a voi e non non sono solo speranze anche solo se vi risuona una parola questo può essere un aiuto perché comunque gli angeli cercano diciamo di aiutare tutti ma poi ovvio che nelle stese interattive non è facile non è possibile anzi perché sono troppo generali ecco però anche solo una parola anche solo una frase può essere d'aiuto e vuol dire che dovevate vederla dovevate saperlo e gli angeli sapevano già che l'avreste recepito questo messaggio vediamo questo maschile questo maschile si sta occupando del raggiungimento di un equilibrio in tutte le sue difficoltà allora ho testimonianza ovviamente io quando faccio i consulti privati diciamo ho modo di sapere diverse situazioni ecco l'equilibrio che stanno raggiungendo i maschili in questo momento chi prima chi dopo è dovuto a un momento di torre è un momento di torre tanti maschili stanno attraversando un momento di torre tanti veramente stanno cambiando completamente la loro vita attenzione che se un maschile sta cambiando la sua vita completamente attenzione che la sfida del maschile è proprio cambiare materialmente tutto è ma attenzione che il maschile vuol dire anche il vostro maschile interiore quindi fate anche diciamo riferimento a quello che sta succedendo a voi se siete dei femminili state mettendo ordine nella vostra vita concretamente allora vuol dire che il vostro maschile lo sta facendo se invece siete solo nel sento che devo fare ma ancora no non mi sento ancora paura ancora diciamo ci sono ancora delle ferite attive chiaramente il vostro maschile è messo stesso come voi quindi non è possibile che poi venga a cercarvi se siete voi stesse bloccate nella vostra vita di tutti i giorni tenete conto che l'energia maschile sta rispecchiando il femminile e voi avete dentro l'energia maschile quindi se state agendo in assonanza in allineamento con la vostra anima allora vuol dire che lo sta facendo anche lui lui sta attraversando dei momenti di diciamo ancora di qualche ferita che può emergere ecco come stavo dicendo stanno cambiando io ecco l'immagine che mi è venuta grazie proprio a questa ispirazione è proprio la torre è un momento di torre per tanti maschili stanno cambiando completamente la loro vita anche quando voi non avreste dato un soldo di cacio questo è il giudizio la fase del giudizio del femminile no quando dice al mio maschile troppo messo male non lo farà mai ecco la vostra energia sta creando che non lo farà mai quindi attenzione che se siete fiamme vi state fregando da sole quindi ecco lo stanno facendo finalmente stanno facendo miracoli stanno facendo delle cose che non avrebbero mai immaginato e sono ancora in un momento nella gestione del momento di torre quindi qua ci sono delle ferite che stanno equilibrando stanno entrando dentro di sé però attenzione non è un momento di torre a sé stanno è un momento di torre perché perché finalmente stanno ascoltando il loro femminile attenzione che sono alla diciamo alla conclusione proprio io lo dico sempre questo il bouquet quando quando arriva un bouquet si parla della sposa no perché cambia completamente fase della sua vita è un portare a termine definitivamente delle determinate cose e questa carta mi parla anche di matrimoni carmici che stanno terminando e loro hanno a che fare con quelle che sono le conseguenze quindi se in questo momento stanno facendo dei cambiamenti importanti io vedo molti molti femminili che sono lì che dicono ok adesso si si è separato adesso si ha divorziato perché non sta con me perché non mi contatta allora vuol dire che non gliene importa niente no allora attenzione perché un momento così potente soprattutto con un maschile che non avremmo mai immaginato potesse fare un balzo del genere attenzione che un maschile che deve entrare dentro di sé deve andare a gestire tutto quanto è la conseguenza di questa scelta di più che scelta se siamo fiamme gemelle è una presa di direzione ecco se sta in silenzio non ti preoccupare perché sta gestendo le sue ferite non può arrivare da te ancora scombussolato ancora quando quell'equilibrio non è stato consolidato quindi magari il silenzio c'è non ti sta cercando ma il cambiamento l'ha fatto per te è ovvio che è così è chiaro che è così per cui non stiamo addosso ai nostri maschili perché se stiamo addosso ai nostri maschili vuol dire che abbiamo ancora dei problemi di controllo quindi vuol dire che lui non riesce ancora a gestire il suo equilibrio mi raccomando lasciamo che loro gestiscono tutte le loro cose occupandoci di noi stessi fin quando non c'è l'unione ognuno deve fare per sé sapendo che siete uno quindi non ci deve essere il dire ok adesso lo lascio stare me ne cerco un altro no io lo amo siamo uno ma lascio che lui si prenda tutto il tempo necessario per gestire questo cambiamento e sta facendo dei cambiamenti sta materializzando i piani superiori sta facendo delle cose pazzesche che nemmeno noi osiamo immaginare o avremmo osato immaginare adesso sì se siete in equilibrio con femminili in equilibrio sapete che cosa sta facendo il maschile e non avete più paura perché si è praticamente liberato materialmente dalle sue catene si sta allontanando dalle sue prigioni è chiaro che deve ancora gestire appunto tutto quello che comporta la rottura di una quotidianità la rottura di relazioni che magari durano da vent'anni relazioni che possono essere state molto dolorose quindi ecco è vero che c'è l'amore per la propria fiamma ma attenzione che sono persone anche sono totalmente divine ma sono totalmente umane così come siamo noi no fiamme e quindi è importantissimo capire che la loro parte maschile la loro parte sì 3d ha bisogno di tempo per adattarsi così come è successo per noi quindi non è facile gestire tutta la propria vita soprattutto quando vi stanno saltando i momenti di torre perché molti mi stanno confermando che stanno accadendo proprio anche per i femminili quindi attenzione preparatevi qualcosa che salta equilibri che saltano lavori che finiscono relazioni che appunto diciamo si sciolgono ecco così come sta succedendo per il femminile che è ovvio che ha la sua fiamma e la ama ma dovete occuparvi delle cose materiali per mettere a posto tutto quanto la stessa cosa è per loro ancora di più per loro perché loro comunque sono molto più razionali quindi noi abbiamo anche diciamo più ecco l'aspetto che va oltre no loro sono più razionali chiaramente se sono arrivati a fare una diciamo prendere una direzione del genere è ovviamente perché stanno ascoltando il loro femminile quindi sono anche loro in equilibrio bisogna consolidare questo equilibrio perché sono stati bloccati per tanti anni bloccati attenzione da tanti anni la loro scintilla creativa è stata soffocata per anni e anni e decenni quindi attenzione che queste ferite sono ancora da gestire quindi attenzione che mi stanno dicendo si stanno liberando di tutto però lasciamo il tempo che possano gestire diciamo tutto quello che è il risultato di questo miracolo perché sono veri e propri miracoli ecco quindi gli angeli in questo momento mi stanno dicendo che ci sono maschili che stanno compiendo miracoli ma sono ancora diciamo imbarcati in quello che è il fuoco il fuoco può essere ancora situazioni appunto di dolore che devono gestire per altri anche magari loro hanno ascoltato se stessi certo non hanno più tanti dubbi ma è ovvio che è difficile stanno andando diciamo stanno cavalcando un po il fuoco stanno gestendo quello che possono essere le emozioni ma stanno accettando tutto quello che arriva perché sanno che hanno fatto la scelta giusta hanno preso la direzione giusta la strada si è illuminata sapevano che cosa fare è chiaro che però non è facile per nessuno in questo momento si apre davanti a loro il bivio il bivio del il passato è ormai alle spalle mi sono liberato dalle catene e ora devo prendere una nuova direzione con tutte le difficoltà che comporta l'attenzione che il maschile alle prese con tante 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 difficoltà dovute anche a eventuali figli eventuali appunto partner se si sono appunto lasciati con situazioni karmiche che comunque rimangono non è che ecco situazioni di vita quotidiana che devono andare a gestire dopo questo cambiamento quindi c'è un po il rilascio no è un po difficile questo rilascio e hanno bisogno proprio di salire la scala di allontanarsi da questo peso hanno bisogno di vedere le cose con il loro punto di vista ma attenzione sempre un punto di vista che ha radici nell'anima e quindi stanno creando il loro equilibrio stanno lavorando su di sé è un momento ecco mi viene un po da dire un momento sì l'immagine che mi avevano mandato gli angeli in questo momento era il momento di torre il momento di torre momento di rilascio un momento anche forse un po di eremità perché perché hanno bisogno di entrare dentro di sé quindi se c'è qualcuno che ancora mantiene il silenzio attenzione non è finita qui abbiamo delle ondate di riunione che possono appunto ancora manifestarsi anzi sono appena hanno appena iniziato a manifestarsi quindi qualcuno già l'ho fatto altri invece lo faranno nel prossimo in questo mese nel prossimo ancora e quindi vedete che c'è messaggi di fuoco qua c'è l'anima che sta mandando messaggi e loro lo stanno ricependo andando a lavorare concretamente su di sé per poter concludere appunto questa fase di passato e si stanno affidando all'anima si stanno affidando alle stelle si stanno affidando agli angeli si stanno affidando all'universo ecco e stanno trovando piano piano la loro pace il cambiamento sanno di aver fatto il cambiamento giusto è ovvio che ovviamente anche qui la loro forza è una qualcosa che devono ritrovare devono trovare la loro forza sapendo che cosa stanno agendo insomma in base all'anima e che stanno manifestando proprio nella loro vita quotidiana ciò che hanno sempre desiderato tutti questi anni e che era difficile da gestire si sono arresi all'anima si stanno arrendendo all'anima e stanno creando diciamo quello che è il presupposto per fare casa con la propria fiamma quindi ecco il messaggio di questa settimana è proprio il maschile alle prese con una situazione di cambiamento cambiamento ancora che richiede un po di assestamento questo messaggio riguardo al nostro maschile quindi attenzione che se appunto già le scelte sono state fatte ma non vedete ancora che viene presa la direzione attenzione stanno risolvendo tutto hanno l'energia della risoluzione c'è ancora un po da aspettare per questo nuovo inizio ma è già tutto finito già tutto compiuto e ovviamente mi stanno dicendo sono nella fase di rilascio di rilascio diciamo di tutte quelle cose che stanno ancora un po tirando per la giacca no è un po come se appunto ci fossero ancora tanti pensieri tante preoccupazioni derivate da questa presa di direzione che sanno perfettamente essere quella giusta però non è semplice c'è uno scotto in ogni situazione che si porta avanti e stanno imparando la lezione è questione di tempo mi stanno dicendo non abbiate fretta perché la pulizia è quella che determinerà la durata dell'unione che arriverà quindi se dovessero uscire dalla loro situazione non ancora pronti sappiate che ovviamente anche voi non siete ancora pronte perché siete specchi e quindi l'unione non sarebbe quella definitiva per cui se ci sono ancora da c'è ancora da aspettare c'è ancora qualcosa non preoccupatevi perché sta arrivando sta arrivando e già è già tutto pronto ed è esattamente ha già risolto tutto in realtà è ovvio che deve fare i conti con tante cose anche con attenzione giudizio degli altri che ha già superato che però ovviamente gli arriverà attraverso le situazioni familiari le situazioni di amicizia le situazioni sociali ecco deve fare un po sta affrontando il fuoco sta affrontando il fuoco e il nostro femminile che cosa sta affrontando le sue diciamo le sue emozioni quindi anche qui se il maschile sta affrontando il fuoco il femminile sta affrontando l'acqua quindi le situazioni appunto di paura paura che non arrivi paura che attenzione anche qui guardate le vostre emozioni non non vi fate prendere dal controllo dalla paura dal dubbio perché andate ad alimentare questa difficoltà che al maschile allora andate ad ascoltare la vostra il vostro le vostre emozioni come dico sempre in tutte le letture intera scusate individuali lo dico a tutti è quindi una cosa che comunque per tutti è valida perché sta cominciando il vostro periodo fortunato c'è un nuovo inizio che sta arrivando non dubitate assolutamente di questo chiaramente ovviamente a chi è stato indirizzato questo messaggio e che è vicino alla all'unione se per qualcuno risuona potrebbe esserci una riunione per esempio magari ci possono essere ancora tanti problemi ma ci può essere una riunione magari non è definitiva quindi prendetela diciamo con la vostra diciamo vibrazione nella vostra frequenza e state manifestando quella che è la benedizione di questo incontro quindi state veramente portando a quello che è il l'unione fisica su questo piano ma dovete ancora passare attraverso un po di lavoro di isolamento qua mi sta dicendo inattività di isolamento perché perché il maschile ancora sta gestendo voi dovete ancora gestire le vostre emozioni forse i vostri dubbi c'è ancora qualcosa da comprendere ma è un qualcosa di animico che verrà alla luce proprio perché state lavorando in allineamento con la vostra anima e la crescita si vedrà si manifesterà tutto quello che avete imparato si sta manifestando ci sono tanti segni di 22 il maestro costruttore colui che appunto il numero maestro che parla proprio di manifestazione ai massimi livelli per quanto riguarda l'unione sacra quindi vedete che se ancora avete qualche dubbio qualche cosa di incerto ecco ascoltatevi moltissimo cercate di trovare il vostro equilibrio perché questo aiuta diciamo la solidità dell'equilibrio raggiunto dal maschile e il femminile comunque ha già capito ha già capito che è il mago il mago è colui che manifesta la sua realtà e la cambia cambiando l'energia interiore perché tutto arriva da dentro questo è il frutto di un risveglio e si raccolgono i risultati di tutto questo lavoro abbiamo il femminile ha trovato le chiavi del diciamo di questo portale di unione lo ha lo ha diciamo come dire sudato lo ha sudato finalmente pronta finalmente pronta ci sono possono esserci ancora degli attaccamenti da rilasciare che sono legati a questa situazione di emozioni quindi se ci sono ancora un po di problemi ecco rilasciate gli attaccamenti perché potrebbe essere la diciamo la situazione di un maschile che ancora fa difficoltà a rilasciare un po il passato quindi lavorate sugli attaccamenti qua mi stanno dicendo che in realtà il femminile che vicino all'unione è praticamente già in unione anche se ancora non è manifestata ha rilasciato tutti gli attaccamenti ha rilasciato il giudizio degli altri ha rilasciato quello che sono ciò che offuscava la sua vista animica e ha ovviamente cominciato a creare la sua nuova realtà ci vuole ancora un pochino di aspettativa guardate un po se non sono proprio specchi così il femminile e il maschile sono completamente in assonanza bisogna aspettare ancora un pochino però tutto è già è già successo tutto è già accaduto vediamo un po sì 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 ecco qualcuno mi stanno dicendo che qualche femminile deve ancora fare i conti con un maschile che sta un po bruciando bruciando cosa significa appunto è un maschile che sta affrontando i suoi problemi attenzione che se il nostro maschile sta affrontando tutto ciò che brucia nella sua vita qua c'è un maschile che richiede attenzione è un maschile che può essere ancora per qualcuno un po da gestire perché ricordatevi che ovviamente il maschile è interno interiore ecco c'è ancora qualche cosa riguardo a una ferita di va sul valore personale dipendenza affettiva ci possono essere ancora delle ferite di abbandono ferite di rifiuto ferito di tradimento ecco attenzione perché questo tutto questo potrebbe far parte appunto di queste queste emozioni che devono venire fuori quindi mi stanno dicendo che attenzione a quello che state provando perché questo è fondamentale se ci sono ancora dei rimasugli nel femminile riguardo a delle ferite lo scarso valore di sé l'accontentarsi delle bricele chiaramente stiamo diciamo bloccando un po il processo di equilibrio riguardo a queste ferite del maschile quindi per qualcuno ci saranno ancora delle situazioni da gestire in questo modo per altri invece mi stanno dicendo c'è il cambiare direzione finalmente il femminile che ha ancora diciamo queste cose diciamo da sistemare perché ci vuole ancora un pochino da aspettare quindi non è un qualcosa di immediato mi stanno dicendo stanno cambiando stanno guarendo le loro ferite e ovviamente stanno portando alle spalle quello che è il passato quindi attraverso la guida dell'anima stanno portando alla diciamo alla compimento quello che il ciclo carmico perché perché stanno ascoltando le proprie ferite quindi c'è siamo un po diciamo il femminile un po cacciatore riguardo a tutto quello che ancora manca per poter creare la propria realtà ancora dei blocchi quindi siate sempre in gratitudine perché il cambiamento avviene nel momento in cui sappiamo che l'anima guida la nostra vita quindi non abbiamo da far nulla che non lasciare ecco abbassare tutte le barriere che ci allontanano dalla dal raggiungimento delle nostre delle nostre i nostri desideri quindi è un femminile che ha raggiunto il suo potere o lo sta raggiungendo sta manifestando tutto ciò che ha sempre desiderato che è sempre stato un po diciamo lontano no dalla manifestazione e quindi è la mano gli amanti sacri vedete che anche qui sono usciti allo stesso modo quindi qua c'è veramente l'unione che si sta materializzando per qualcuno si sarà ancora da andare a vedere a cacciare diventare il cacciatore di qualcosa che ancora magari non vedete riguardo a questo scarso valore di sé probabilmente qualcosa che arriva da molto lontano da situazioni karmiche qualcosa che mi parla di greco romano delle delle vestigia delle rovine che ancora però influenzano lontane nel tempo che non hanno più in un certo senso valore se non simbolico vanno illuminate con l'anima vanno individuate e quindi è importante che il femminile vada ad ascoltare le proprie le proprie ferite le proprie emozioni e ovviamente facendo questo l'anima può intervenire nella propria vita quindi andate a togliere ancora tutto quello che può essere di ostacolo al piano animico la manifestazione del piano animico e ovviamente l'anima sarà libera di manifestare questa meraviglia quindi mi raccomando mi raccomando questo messaggio potente degli angeli in questo momento non abbiate fretta non abbiate fretta c'è l'aspettare ancora un pochino per questo nuovo inizio questo ovviamente per chi appunto in questa situazione per qualcun altro già si è verificata l'unione per qualcun altro invece ci sarà magari da aspettare per non l'unione finale ma una riunione cerchiamo di ascoltare il messaggio degli angeli senza metterci la mente ma mettendoci il cuore e quindi capiremo qual è il messaggio esattamente per noi allora divine divine io vi ringrazio dell'attenzione un abbraccio e a presto grazie a tutti